Ok, siamo tutti ragazzi, qua c'è bug, non c'è te, e oggi siamo in una normal con il signor Canelupo. Bella! E il signor Malux. Bella! E le ranked arriveranno a giorni, quindi, cioè, fra qualche giorno arrivano, state tranquille. Ok, sto facendo... sto vincendo tutte le ranked ultimamente. Non è vero. Però domani, ragazzi, arriverà un gran video. Cioè, domani e dopodomani verranno fuori dei gran video, quindi, mi raccomando, restate sintonizzati alla massima potenza su questo canale. Perché ci sono dei video che voi neanche immaginate. Mi raccomando. Esatto. Quindi... Lo sto vedendo in un video in cui c'è una che va in palestra per fare tipo una... LOL. Che fa tipo la siglette, no? Ah? E quando ci vanno dietro gli uomini, arsa, e sta in gonne e si vedono tutte le mutande, no? Eh, sì, io... Eh, dico. Nel frattempo, mi stanno comprando tutta la maglia. Davvero? Eh, che cazzo, c'è un po' full. È capo della città nostra, venire. Ma, dai, dico. Si è fatto maschio. Sì. Eh, è maschio. Mi hai fatto prima regalare la roba, vuoi? Mi hai fatto male. Siamo support con Timo, supporto del caro cane. Che schifo, vergogna. Io farò schifio, perché qua non ho proprio 0 rune, 0 di 0, 0, 0, 0, 0, 0 di 0. Beh, come sempre, insomma, tranquillo, non c'è problema. Ma diciamo di sì, diciamo di sì. Guardare il nome di questo qua, Porn... Porn e Succa. Molto bene. Vai, vabbè. Ma io devo volare. Cioè, no, Dio, oggi c'erano le One Direction a Milano, ma sa. Io sono una roba di due. Mamma mia. Io ho più che. Sì, giura. Ma per te che mi metto qua, invisibile, così faccio il subito. Guarda la canzone che ho cantato. Eh, vai, 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 vai. Vabbè, è loro. Vabbè, è loro. Invisible Dry, asciutto sulla pelle. No, mettile qua, mettile. Indoor. Ok. Ehm... Comunque, canne nelle rune, questa è p-carry. Ho, tipo, ehm... Ho tolto un po' di attacco magico, come mi hai detto te, e ho messo un po' di difesa. Io dopo ho detto che fai un'altra pagina in rune. Sì, vabbè, però, c'è, per dirti, se trovo un team con tutte e due, scusami, con una p-carry e una d-carry, sull'inculata. Quindi ho deciso di togliere un po' di... Eh, ma non li trovi? Cioè, non li trovi uno a Pia di top. Tu puoi trovare Jax, ma il maggior di... Eh, vabbè, è ok, top, ma... Dopo le teamfighter o del genere... Ma teamfighter, quelle a 10 armor che ti metti più, non ti serve. Ho capito. Ciccio, scusami. Che c'è? Capirai. Team Estet on the brush. Ah, ok, tranquillo. Ah, non ho capito. Se che riesco, non più ti arti, no? I'm here. There is... Team O in... Your... First bash. LOL. Beh, il danno di Queen, però, raga. Hai visto? E non ho le rune. Ahahahah. Ci hanno messo il trinket. Sì, sì, sì. Così magari ti vedono o no? Dimmi se te serve la mano, eh. No, io sto fast. Boh, forse. Siete che farei livelli. Eh, capito. È vero. Beh, torno dietro, ho messo tutte le palle. Uno, due. Eh no, c'è la ward là, mo... Eh, lo so, lo so, lo so. Sì, è un blind e fa... No. No! T'ho salvato il culo? Eh, sì. Direi... Questo è ancora l'uno, io. Pronto e armato. Lo prendo e giro il culo proprio. Che coglioni sta sempre. Allora, te piace? Certo. Pure caldo. Oh, ah, mi so. Sì, vabbè. Guarda. Vedremo così se lo capisci. Ecco. L'esina è gold pure lui, eh. Pure? Ma io sono a livello 20. Ma porca. Eh, c'è una però gold. No. Oh, l'esina sta qua giù. Oh, c'è l'esina qua. Andà, sì. Io c'abbiamo due blind e botte, ma che ci penso. E poi, tu avevo detto prima, la verità è qua. Non mi restavo con la diversa. Sembra che sto chiamando. Sì, scontro, guardiamo. Quanti minor match ci stanno? Le scene, le scene, le scene, le scene. Le scene. E mo? E mo sono raccate merda? Oh, 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 oh. Guarda che lo sanno, eh. Eh, lo so che lo sanno. No, 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 no. Shh, 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 shh. Ho blindato le scene, ma... LOL. Gli ha dato il blu. Gli ha dato il blu, gli ha dato. Eh, lo so. Due, due, due. Oh, l'ho so. Premata slip. Sì, ho offeso la macchia sulla sua. sostegno per quanto riguarda per me il primo per farlo capo di questo la parola città il progetto per casa che cosa grazie per la tua e la tua cultura ma non questo è che vi chiede a parlare aprile un'altra parte un'altra parte cazzo fatta con sette la mano la bocca d'uomo per l'uomo l'uomo solo solo la testa abbiamo avuto il tuo spazzolino facciamo che cosa l'uomo io l'ho chiedita dei mani per tutt'ora la cipolle scoprile 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 roma credo colorante tutt'ora barbara ma il barone forte piccate pizza madonna a portare alla buona pro Sì, è un uccello? No, no, niente, quelli sono te però No, no, soraga Pure qualcuno che mi vorrei dire Venga, venga da un bello uccello, arriva Ma voglio vedere che fa proprio questo Ma non sei grossa, Tristana Ha visto? Tristana da cazzo cazzo Il signore Ma vai, no, vai ciccio Soraga, soraga, va No, ma silenciato Vai andate Vai andate Vai andate Vai andate E tu? Ah, sto qua Ah, Shenn ha ultimato Sia, Shenn Una, due Una, due Meti una warder qua Sì, va a prendere questa metà diga Sì, ma l'ho toccato Sanculo, va Io porto su blind adesso che ci penso Ok Ah, fate... Rattri va Dice bene Fai proprio vq e sotto È vero Eh sì Eh sì Vuoi dire sì o no? No, sì Messa Sì Messa No, sì sì Mi sta qua per culo No No, mi porto... No, mi porto sulla cu Comunque qua Guarda la prende Mi dobbiamo i doppi Sì Sì Eh, mo? Mo? Vado avanti Eh? Oh, si rivelaciò un pochetto? Sì Sì Ah, ma che pulisce? La pulisco io Ah, è scomparso Lotto 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 Comunque il team si deve... Si deve buildare così come lo sto buildando io C'è Ah, ma sul taranto lì Eh sì Eh Rirò un mo' botte da bravo middle-hainer Minchia che pigna che l'hanno tirata Sì, ma va dire che una pigna qua Non mi devi la stessa quei minion, però Il rapporto Prende... sto facendo la cacca Ah, ma perché c'è la caccia? Ah, altre pizze? Aspetta Vaffa, me ne vado Prende e scende, prende e scende Eh, eh, eh Ascensore o scale? E scale Eh, là, voglio prima che arrivo Arriva quel fiatone e il suo chitamo Chiamo, l'uccello? Ahhhh No, ma c'è l'inziata Eh, avresti in faccia l'uccello, eh, se raga Come la mamma di mano, eh Tiensi, ti accogliè Chiassarà, capire è nato Ah, ti piace Mi piace No, ma ha matato, che culo Se tu non fanno danni Mi sciolta, tristana Mi tristana mi sciolta le skill, capito? Eh, come una brava tristana Vuole mangiare la sua Non mi ha mai 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 È morto Non mi ha mai 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 Non mi ha mai 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 Non mi ha mai 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 Ho detto quando hai mai 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 Giunta tre arrotero Le motorie Ovvero, io ne ho mai 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 Il problema ho mandato la mamma ecco ti immagino madre senti tutta la madre tutta la madre no ci vedo tu nonna che ti dice tutta la madre io mi dico nei nonni no sei tutta la madre orga puttana no stiamo scherzando dai 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 ti ambos cesta ti star shop mary piccola ho visto un qualcosa erano depos intermedi non 1, 2, 1, 2! OHHHOHOHOHOHHOHH! Porca puttana! Mi oddio! Questi c'killano eh? Si! Lo sapevo lo sapevo! Io dovevo volare! Mamma mia! Ma guarda! Ma guarda, c'ha la ultima le fin? No, e neanche il flash Manco Tristana c'ha la ultima Ma c'è Moro, lo sai? No, no, fai pentakill, vai Eccolo, pentakill, pentakill Vai Manu Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, detrick Oh, detrick Detrick, Manu, dritto, dritto Vai destra, regalla qua, Manu, regalla qua Aspetta te, ma devi far ammattare questo No, metti una ward, metti una ward Non c'è solo una ward, non c'è Manu, oh, ecco, guarda il culo questo Aiuto, in modo cazzo vado Manu, c'ho paura per te Io pure, ah, ah E' tricca Ah, e' tricca, ragazzo C'è, potresti fare un montaggio su questo tricco, sai? Ma che dico, f*** E fallo, no? Da pari Te fai passare il pezzo in cui l'ho fatto Da ciccio E te lo modi fino a motovare, no? No, 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 ho passato a rovide, ti sa com'è Eh, magari forse perchè sei un botto forte botto Non ho visto, non ho visto metà io, però Questo è brutto Ah, no, che nappo Come se c'è baron replay o qualcos'altro No, io, cioè, io ce l'ho ma non registro con baron replay Eh, lo so, però baron replay ti serve file No, su baron replay No, su baron replay, sapevi che su Coviasi ci puoi registrar So chi è sta cazzola? Non lo so, non riconoscio la schermata C'ha le pigne Madonna Metti il fuoco qua e vai stealth Ma sai che era guardato? Si è vero, era guardato Nooo Nooo Ma potete che era guardato? Si, mi si è vicino Sei un dia, mondio Eh, eh Quanto si impari con sto ragazzi Oh, allora? Oh, effa, culo Vedi, vedi, guarda, 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 è scherzo, vai Ma come dici? Basta, io le maglia le uso, non me le compra nessuno le uso Sì signore Guarda se volete proprio qua, eh Che mi hanno visto Eh, che mi hanno visto Guarda il fungo! No, così si muove LOL Guarda qui, metto qua, dai Guarda qui, dai Dai, tre botte, dai Dov'è che vuoi innate? Guarda qui, dai 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 per la voce marina ma è stato il giro troppo per me dopo il suo pacchetto foro ecco quando ho fatto la ultima data capito io ho capo porto per la parma se vanno i motori lo cancamite e flash non male Senna vatta la tappa del culo vatta la tappa del culo amate lo mette grazie Senna tu si che sei un bravo coltto no si signori vabbè sono ragazzo per capsa però manuel pezzo di merda manuel pezzo di merda manuel pezzo di merda manuel pezzo di merda faccio farlazione del medio non mi importa tanto se vinci a perdere cambierò davanti la stessa no mi mancano tipo 70p vabbè se perdono vado eh spero me ne da 60p chiamano uccello uscita d'ora esatto esatto addosso esatto addosso devo accortarlo qui poi si assalava a questo andò ragazzi si ma ma qui ma qui ma non 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 ma ma ti ma 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 ce mi 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 vi mi 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 che vuol dire e' ma è uscito ah non te è uscito vabbè se rientra e' muore e' muore ma non fa dire quanto un cazzo un culo ah no ma si bella e' infatti ha detto ferire eh ho sbagliato ehm sbagliato se non forse un'alfra beta è sicuro froscio ma non c'è vabbè tu madre vabbè scusi signora manuel signora manuel ma perchè posso dire il cognome no signora manuel ah oh oh aiuto madonna ma cosa succede ma cosa fa vabbè vabbè quello è impazzito 2 downs e 1 cup ecco no 2 downs e 1 match ecco qua 2 girls 1 cup 2 downs e 1 match vabbè oh oh che ci vuole intenzione quando vogliamo giocare bene ecco ecco e' un altro adesso senza un accordo ma certo ma certo io mi chiamo alfonso ma si mi chiamo alpore ma guarda dopo che nemmo una fata ma fa il drago dopo no ma che fanno cazzo più molto perché no ma non mi chiamo ma non mi chiamo ma non mi chiamo ma non mi chiamo vabbè vado a pialanelli poi vado a pialanelli poi vado a pialanelli pialanelli da a scuola si intanto vi c'h1 atlanti 2 2 così famer gruppo ma so far parca di ciò vieni qua famer gruppo poi ti doi a far mercato quando c'ho quattro neri li chiamo e una volta tutti e due a fanculo ma si vado non si vado non vado e uno quadro là in casino oh figlio mi sa che ci dice fai questo è morto no ma si vado a pialanelli io sono immortale oh 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 basta oh oh uur no br ora dopo no, piano, piano! Dietro, dietro per favore, dietro, dietro! Ma qua eh? Ah, no? No, doveva venire il più di ma, quel coglione. E' cieco, vorraccio, che devi fare? Ok, lo botte? Ah, esitore? E andiamo a mezzerà a cambiare, ma pure nemmo vado. Sono un cazzotto, orco! BOOM! Ma rega, tutti mi depuciamo, sti cazzi. Fa' ma dattica dello stronzo. Ma per culo la sapra forza. Sì, ma botte c'entrano... Ah, copiamo al culo e ti fai a destasco qua. Che lo so, mi senti bene. Eh, bravo. Bravo, Brand 10! Brand! Bravo, oh, oh! Andi a piglia! Ehi! Come tiro, hai da un cazzotto un paca! Ah, no? Ah, bravo, no? Chi c'è morto? Mamma, auto HP! Nooo! Nooo! Noo, noo, noo! I botterini sono fatte la dora. Non rega un cazzo, continuiamo. Mi sa che non vi la fanno forse. Porco! E questo chi ha visto? Ah, no, via! Mè sul fungo! Eh! Eh! Ma ha preso uguale! Ha preso uguale! Non lo so, ma che ha fatto! Che naffo di merda, ronzo! E' nulo! Testa, te cazzo! Quello mi abbia quale, ecco! E' panna! No! Ma gira forse, non lo so. Vieni a trattare due qua, sciamana e quell'altro strozzo, così ti do qualcosa. Vomercroup! Allora... 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 Hell… Ah, no, i report vot! Beh, regà! Quanto è ciccio... No, sento, quanti più ho preso! Guarda! Ah, ok! 84, magari no! No, ho presi 51! 13.882 IP! Ah, li so! Mi mancano tipo di... Vi mancano tipo 19 IP per prendersi il nuovo nome. Esatto! Ti chiamerà Eranetchi Rottonculo. Ah, quello è il tuo! Eranetchi... Luciampurrier. Mi chiamerano Il nome Eranetchi Rottonculo. Eranetchi Rottonculo. Canelubo De Pari Fire. Vero. De Lucian. Senti, senti, è vero che io sono il boss di Daryot, è il boss da tutto cazzo. Beh, raga, guarda, ci vediamo al prossimo, ciao ciao! Ciao belli! Ciao! 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 Ciao!